Gentili telespettatori, buona giornata. Abbiamo visto la parte del centrodestra che è all'interno del governo che dice Berlusconi su questo non si transige, se Draghi aumenta le tasse noi andiamo fuori dal governo. Salvini che dice noi siamo nel governo solo per evitare che la sinistra aumenti le tasse. Le tasse sono aumentate, sono aumentate, dal primo ottobre gas, luce e la new entry è la revisione degli estimi catastali. Chi ha le seconde case andrà a pagare più o meno il doppio, il doppio di quello che pagava prima. E certo sono fermi al 1989 e allora adesso Salvini e Berlusconi, i dritti del centrodestra, i duri del centrodestra, non indietreggeremo, non permetteremo, usciremo e la voglio vedere tutta, la voglio vedere tutta. Vediamo questi due grandi condottieri, capitano e cavaliere, cosa faranno? Il cavaliere e il capitano che cosa faranno? Ditemelo voi, che faranno? Bene, chi dice le cose come stanno è come al solito Giorgia Meloni. Dice che bella batosta agli italiani, complimenti, dice Giorgia Meloni. Venerdì, dice il capo di Fratelli d'Italia, è previsto l'aumento delle tariffe di gas e luce, portando ogni famiglia a spendere in tutto quasi 2.000 euro in più rispetto al passato. E aspetta, cara Giorgia, ancora non hanno parlato, ancora non ci hai messo il conto di quelli che hanno la seconda casa, di quelli che pagheranno il doppio. Quindi mettete una casa che pagava 600 euro di Imu, la seconda casa, adesso pagherà 1.200 sono 600 euro in più. 2.600 euro. Quindi la vostra tredicesima o più della vostra tredicesima, qui qualcuno avrà anche due stipendi, vengono annullati dall'aumento delle tasse. Ma rendetevi conto, cioè voi in un anno lavorate più di un mese solo per pagare questo aumento delle tasse, poi il vostro potere di acquisto viene eroso, mangiato. Il caro bolletta fa infuriare Giorgia Meloni che su Facebook dice sul governo Draghi altra bastonata per gli italiani che i primi di ottobre si troveranno una nuova maxi stangata che peserà sui portafogli della stragrande maggioranza delle famiglie. Più volte, dice Giorgia Meloni, ho chiesto al ministro Cingolani, ogni volta che sento stromi viene in mente un carro armato, quali fossero le sue intenzioni per fermare l'aumento di luce e gas. Ma dall'esecutivo, sinonimo di governo, ancora nessuna risposta. E Giorgia, ma che te devono di? Ma che te devono di? Qui sono ben contenti che aumentano le tasse. Beh, la sinistra è in estasi, no? Cioè, letta che voleva la patrimoniale qui dice, wow, qui altro che patrimoniale, qui è molto di più, qui entrano un sacco di tasse in più. Così la sinistra è contenta che con queste tasse che entrano in più si può andare a riappianare qualche debituccio fatto da Giuseppe Conte che ci ha comprato i banchi con le rotelle, ci ha fatto i bonus monopattino. Sapete quanti miliardi ha buttato nel cesso Giuseppe con il suo governo Conte II? Una montagna, una montagna, ci si poteva comprare uno stato estero con quei soldi lì. Comunque, e alla fine si pagano. Io ve l'avevo detto, quando Giuseppe, l'avvocato Pugliese, aumentava e regalava, faceva i bonus, vi ricordate che aveva messo anche 3 milioni per i corsi delle casalinghe? 3 milioni per i corsi di aggiornamento delle casalinghe. Cosa volete che siano? 3 milioni, eh? 3 milioni, non è niente, 3 milioni. I vecchi 6 miliardi di lire, 3 milioni. Con 3 milioni ci compri a volte anche un castello in Italia con quei soldi lì. 3 milioni. In una zona montagnosa, un vecchio castello anche da abitare, con quei soldi lì l'ho comprato e lui ci ha fatto i corsi per le casalinghe. Va bene, a parte tutti i soldi che ha buttato nel cesso Giuseppe, adesso arriva il conto e il conto dice, ma adesso chi lo paga al conte? Il conte, il conto del conte. Ecco, per i conti se ne occupa mio ziantunello? No, per i conti se ne occupano gli italiani, che con questo aumento delle tasse andranno un po' a cercare di riappianare i debiti. Così tutti quelli che vanno in giro col monopattino comprato con i soldi dati da conte, quelli che hanno il monopattino, dicono, il monopattino, adesso ti aumentano l'Imu, luce, il gas, così il monopattino te lo strapaghi, te lo strafoghi il monopattino. Bene, bene. E così, Giorgio Ambino dice, altra bastonata per gli italiani, che i primi di ottobre si troveranno una nuova maxi stangata, cioè una nuova maxi tasse, aumento delle tasse, che peserà sui portafogli della stragrande maggioranza delle famiglie. Più volte ho chiesto al ministro Cingolani e non ho avuto nessuna risposta. E poi aggiunge, intanto i cittadini già stremati dalla crisi economica subiscono decisioni sbagliate, nell'indifferenza totale del governo. Basta tartassare gli italiani, dice Giorgia Meloni. L'unica voce, perché ovviamente gli altri sono al governo, gli altri sono al governo e fanno fare tutto a Draghi. Dice, tanto c'è Draghi, fa lui, tanto può essere sempre... visto che siamo in tanti al governo posso dire che è colpa di quello là o di quello lì dietro. Colpa mia? No, io sono sempre stato contro l'aumento delle tasse. Ma tu non minacciavi di uscire dal governo? Eh, vabbè, sono cose che si dicono, insomma. E così, non è tutto. La Meloni poi passa sulle contraddizioni, quelle ovvie, sul Green Pass. Dice, uno studio della Spallanzani, commissionato dallo stesso ministro della Salute, conferma quanto Fratelli d'Italia dice da tempo. Il Green Pass è uno strumento praticamente politico, uno strumento politico, non di altro tipo. Ci auguriamo, dice a questo punto, che Speranza e il governo prendano atto degli studi dello Spallanzani, incentrando l'azione di governo su trasporti pubblici, la scuola, eccetera, eccetera. Sapete che i trasporti pubblici erano il principale modo di trasmissione. E così, Giorgio Amiloni poi fa il suo posto, dice, luce più 29,8%, gas più 14,4%. Ma attenzione, questi sono solo gli ultimi aumenti, perché la luce dall'inizio dell'anno con questo aumento farà più 50%, una roba impressionante. Il gas, questo 14,4%, lo sommate all'altro 15,6% e si va a un bel 30% di gas in più e 50% della bolletta in più della luce. Quindi, attenzione con i mini split, accendere le luci, tutta la casa accesa. E ci sarà da stare molto attenti adesso alla luce, perché diventa quasi un bene di lusso la luce. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie.